Vallo della Lucanian, mi trovo presso l'Ailing Village in occasione del convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle in modo particolare organizzato e voluto dal senatore Francesco Castiello in merito alla prevenzione del territorio e alla prevenzione anche delle malattie tumorali. Lo stiamo portando avanti insieme alla cooperativa Parmenide dei medici di base perché visto che nella nostra provincia il registro dei tumori è fermo da tanti anni e questa cooperativa Parmenide per anche l'impegno personale del dottor Di Gregorio è un'iniziativa lodevolissima. Il convegno ha voluto sia recepire gli ultimi dati, gli ultimi movimenti, le ultime dinamiche per misurare ancora meglio in termini di attualità il fenomeno e sia sentire da scienziati di fama internazionale come il professor Giulio Tarro quali sono le nuove frontiere della ricerca scientifica e della ricerca farmacologica su questo difficile fronte. La sostanza di occuparsi in maniera sostanziale o giustamente come dice la nostra situazione fondamentale del problema della salute attraverso ovviamente la bonifica dell'ambiente. Ormai sappiamo e conosciamo anche dove ci sono i nostri limiti e sappiamo oggi che non è una questione soltanto genetica ma addirittura è di quegli interruttori che rappresentano o meno la messa in atto degli stessi geni e questi interruttori possono essere spenti o accessi attraverso la nostra capacità. Queste penso sia le prospettive che riguardano i nostri figli, i nostri nipoti quindi è una questione che viviamo tutti insieme. Io ho spiegato anche da parlamentare uscente, sono un parlamentare europeo che è membro della Commissione Salute e Ambiente e Sicurezza Alimentare che la cosa più importante in questo momento che possiamo fare noi è occuparci di prevenzione. La prevenzione si fa garantendo che il nostro cibo sia cibo pulito, eliminando la chimica nel nostro grano, nei nostri vini se possibile. Quello che possiamo fare è per evitare che le persone si ammalino e poi dover intervenire dopo con la sanità. Questo è il primo fattore, il modello che bisogna perseguire è il modello che insegue la salute e non la sanità. Sì, sicuramente è un argomento di grandissima attualità, di grandissima importanza che il Movimento 5 Stelle al Governo ha cercato di affrontare sin da subito. Uno dei primi provvedimenti che abbiamo approvato è stato quello dell'istituzione del registro dei tumori del referto epidemiologico e questo è un aspetto molto importante perché abbiamo cercato di mettere in relazione soprattutto quella che è l'incidenza dei casi di tumore con l'ambiente, quindi con tutti quelli che sono gli input che, come ho spiegato anche durante il mio intervento, il cancro è una malattia multifattoriale per cui ci sono componenti che riguardano, attengono sia alla genetica ma anche allo stile di vita, all'ambiente, alla qualità di ciò che noi mangiamo. E da sempre il Movimento 5 Stelle è attentissimo alla tutela dell'ambiente e soprattutto alla difesa della salute del cittadino. Una delle cose a cui più teniamo è sicuramente dare informazioni ai cittadini, ma informazioni reali e scientifiche. Una cosa importante che è uscita sicuramente è la consapevolezza, e lo dico ai miei compaesani cilentani e del Vallo Idiano, è quello di mantenere il nostro ambiente integro, intatto, essere da sentinelle e non lasciare che venga sporcato dall'esterno perché è una delle poche cose che abbiamo di alto rilievo, tenere i nostri terreni incontaminati perché quello che è uscito anche dal convegno, benché a volte si potesse andare su altri temi, è che molto incida l'ambiente. Grazie a tutti.